Ci sono distrazioni che costano un gol e altre che costano la vita. La distrazione alla guida può uccidere te e gli altri, quando guidi pensa a guidare. Ci sono distrazioni che costano un gol, altre che costano la vita. Ciao, sono Fernando Muslera, davanti a troppi incidenti stradali non potevo restare in panchina. Ciao, sono Fernando Muslera e con la Fondazione Ania scendo in campo contro la distrazione alla guida.